ben ritrovati un altro pomeriggio insieme Cusano Italia TV un altro pomeriggio nel salotto più bello del mondo il mio qui su sul 264 ci troviamo tutti i pomeriggi a si fa per dire tra le 15 e le 16 con tanti ospiti trattiamo tanti temi e anche oggi sarà così anche oggi il nostro salotto si è arricchito di due personaggi molto curiosi che condividono lo stesso luogo di nascita la stessa città vi anticipo che oggi parleremo della Sicilia e parleremo di Palermo che è una bellissima città siciliana non l'unica visto che la Sicilia è tutta bella non parleremo solo del sud solo della Sicilia e di Palermo ma parleremo anche di giornalismo perché loro sono due giornalisti scopriamo il primo personaggio a Palermo nasce cresce si laurea in scienze della comunicazione dove diventa il ragazzo simpatico che conosciamo si afferma nel lavoro ma a un certo punto si trasferisce a Roma dove continua a lavorare come giornalista per Mediaset ed elargire energie positive di cui effettivamente siamo accorto ha un cognome particolarmente intraprendente oggi si fa per dire Andrea tutto il mondo devo dire nei lineamenti molto siciliano bruno scuro insomma meridionale al 100% giornalista molto simpatico come tanti altri comunicatori oggi online scopriamo il secondo personaggio nata sotto il segno della bilancia cresciuta a Palermo si è formata e affermata come giornalista a Roma il viaggio professionale tutto in ascesa la accompagna verso le più importanti città del mondo e le fa incontrare importanti esponenti della cultura e dell'informazione è un istancabile professionista oggi ha si fa per dire Simona Cangelosi e abbiamo scoperto i nostri ospiti due giornalisti del sud Andrea tutto il mondo e Simona Cangelosi benvenuti buon pomeriggio grazie a me di San TV benvenuti grazie per l'invito siete tutti e due di Palermo ma bionda con gli occhi azzurri e Bruno proprio proprio terrone terrone veramente questo Andrea non ti sei offeso no la verità Franco Battiato mi chiamò la mia conterrona quindi io ci sono affezionata quindi non vi offendete assolutamente siamo l'espressione proprio plastica della comissione poi ci conosciamo già ah vedi esatto palermo è piccola no abbastanza grande però diciamo il nostro ambiente è piccolo ci si conosce un po' tutti ci si incrocia tra transmedizionale però le vostre storie sono storie molto diverse Andrea si è trasferito da Palermo poco tempo fa e invece Simona conosce benissimo Roma perché qui ho studiato all'università ho fatto la Sapienza Scienze della Comunicazione come Andrea però a Palermo io e quindi vivo qui da tanti anni sono circa 25 perché poi dopo l'università sono rimasta per lavoro a Roma perché ovviamente ti offre più opportunità rispetto al sud e poi ovviamente i social in questo senso aiutano tantissimo e quindi si crea questa rete questa rete di contatti io giornalmente parlo con persone che magari non vedo da anni ma mi sembra di averle accanto quindi in realtà lo scambio è continuo è vero poi sui social Andrea tu sei molto simpatico io ti seguo soprattutto perché ho tanto bisogno di ridere quello un po' tutti mi divertono tantissimo e leggevo ieri si dice duce o ducia ducia visto che si fa questa ducessa no non so quella chiaramente era una provocazione perché visto quello che è accaduto insomma dal punto di vista politica ma anche dei dibattiti sul femminile e maschile può essere un tema di discussione beh è la notizia degli ultimi giorni e se ne parlerà ancora a lungo della nuova elezione abbiamo una nuova premier una donna Giorgia Meloni ancora non l'abbiamo una nuova premier perché lei 13 ottobre sapremo la prima seduta però ha vinto le elezioni ha stravinto speriamo che sia l'anno delle donne no è questo il grande tema il mondo in mano agli uomini è sempre stato gestito dagli uomini amministrato dagli uomini andrea minoranza sei contento di essere minoranza sempre stato contento di essere una minoranza e come diceva moretti anche all'interno di una minoranza io sarò sempre la minoranza della minoranza quindi proprio un ghetto mi ghettizzo da solo nell'angolino nell'angolino esatto in siciliano si dice agnone nell'angione aspetta aspetta agnone agnone vuol dire angolino un angolo un piccolo angolo che bello io sono molto attratta da palermo devo confessarvi devo dirvi questa cosa noi in sicilia siamo abbastanza accoglienti quindi siamo contenti se mi inviterete molto volentieri molto volentieri anche perché noi tra meridionali ci capiamo abbiamo un po gli stessi modi di vedere il mondo di vivere ci piace mangiare ci sono delle cose che ci accomunano un'empatia sicuramente che altrove è difficile trovare oggettivamente da 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 roma in giù ricorda che siamo del partito dell'arancina mi raccomando il palermo è arancina è vero la capitale dell'arancina perché dall'altro lato si dice arancino verso catania qui c'è questa dietriba è sempre proprio secolare quindi a fine trasmissione avrei imparato tutte le parole i detti tipici dell'agnone abbiamo detto agnone e poi l'arancina arancina con l'a arancina non arancine è femmina viva il sud viva palermo ma vi manca voi siete a roma in questa grande giungla caotica vi manca un po palermo nonostante sia chiara con i colori come dominazione normana perché ci sono tantissimi biondi con gli occhi azzurri sono stata penso si vede alla bronzatura sono stata un mesetto a casa quindi le mie vacanze sono a casa non posso farne a meno ovviamente quindi sì quando posso ovviamente il viaggio è un po lungo perché abbiamo dei problemi in Sicilia sulle infrastrutture quindi da Roma un po' anche se prendi l'aereo però voglio dire poi tutto il percorso per arrivare a casa è un po lungo quindi ha bisogno di più giorni per stare bene a casa cioè non si può fare un weekend è un viaggio lungo io sto ancora familiarizzando e prendendo confidenza con la città e soprattutto con le distanze perché per 40 anni sono stato abituato alle distanze di Palermo che è una città grande ma non sono sicuramente quelle di Roma quindi confesso che sto trovando un po' di difficoltà in questo ti abituerai? mi abituerò e quindi sono ancora in quella fase di luna di miele con la città assolutamente sì certo la casa è casa Palermo, la Sicilia ci sono soprattutto in quest'estate che io ho trascorso e chiuso in redazione anche visti gli accadimenti politici e quant'altro mi è mancato quell'aspetto però vabbè si fa sì assolutamente nutro una sana invidia nei confronti della luna di miele che Andrea vive a Roma in questo periodo proprio perché è appena arrivato e non sai a cosa vai incontro e non lo sai, non sai cos'è Roma però noi ti lasciamo sognare non parliamo del traffico, del caos la fila ovunque però Roma è bella anche per questo è difficile stare lontano da Roma Roma ha comunque dato tante opportunità per quanto mi ricordo sono più gli anni in effetti che ho trascorso a Roma che non in Sicilia ormai sono venuta qua che ero piccola, avevo 18 anni adesso ne ho 44 quasi ti ha dato tanto Roma sì comunque mi ha dato tante opportunità di crescita cioè sia nello studio che lavorativamente quindi sicuramente appunto in Sicilia hai meno opportunità come in tutto il sud, altra cosa che ci accomuna motivo per cui infatti Andrea si è trasferito a Roma beh sì, sono state tante implicazioni ho avuto la fortuna di essere chiamato a Roma e non ho cercato la fuga perché non sono fuggito da Palermo però rispetto a tanti altri che in me lasciano dietro tanti rimpianti e tante cose insomma io ho avuto questa opportunità anche per questo la luna di miele perché sono venuto con un piglio diverso della necessità con uno spirito diverso esatto, però è assolutamente vero hai lasciato Palermo serenamente in età matura e consapevole ho lasciato Palermo dopo 40 anni nell'arco di forse mezz'ora neanche mezz'ora perché quando mi hanno chiamato per venire mi hanno chiamato tu saresti disposto ho detto subito sì, pur avendo la mia vita inserita e lanciata in quel contesto l'idea di cambiare totalmente aria e mettermi in gioco anche perché ho 41 anni quindi ora più che mai desideravo fare questo cambiamento ho accettato subito questa sfida, questa proposta e sono andato sì, va bene, tra tre giorni parti ho ancora casa giù che non ho avuto il tempo di sdirla la devo fare in questi giorni però davvero è stata una partenza così all'arrembaggio all'improvviso Roma ha dato tanto a tutti in realtà Roma toglie ma dà tantissimo Simona, nel tuo caso abbiamo sentito nella biografia hai viaggiato e conosci tante città hai scoperto tante città ma forse nessuna città è bella dove quella che hai scelto per viverci e quindi Roma non solo è bella ma ti ha dato anche tanto io ti vedo continuamente in giro presa dalla tua vita sociale mondana e comunque da incontri importanti sì, diciamo allora per il Corriere della Sera seguo appunto Cultura e Spettacoli quindi ecco magari mi vedi in giro ai eventi mondani ma in realtà è per lavoro certo, unisci l'utile e il dilettevole ovviamente quindi tutte le prime teatrali cinematografiche o presentazioni di libri hai l'opportunità ovviamente col tuo lavoro di conoscere delle persone molto interessanti di avere una rete di conoscenze belle che comunque ti insegnano molto le storie che tu racconti hai un grande privilegio il fatto che attraverso di te i lettori possano conoscere le storie di queste persone di un certo spessore e quindi viace ovviamente il mio mestiere che facciamo con passione eh sì, un mestiere non facile credo Andrea assolutamente non credo ci sono mestieri più o meno semplici se lo si fa con coscienza con costanza poi fare il giornalista soprattutto di questi tempi è molto più complesso per certi versi rispetto a prima perché l'uditorio è cambiato riuscire a trovare la chiave giusta per poter offrire e presentare ciò che vedi ciò che... cioè raccontare al meglio le cose è sempre più difficile vieni frainteso molto più rispetto a prima vieni accusato di strumentalizzare tante situazioni anche quelle cose che possono sembrare banali o più semplici da osservare la gente soprattutto tende a sempre a guardare qualcosa che va oltre evidentemente anche laddove non non ne è necessità beh questo forse è l'indole umana quella di manipolare metterci del proprio sicuramente immagina per come ne intendo io il lavoro del giornalista è quello di un regista è un occhio su un fatto e ha la sua prospettiva inevitabilmente deve sapere valutare e scegliere sulla base della sua sensibilità sulla sua criticità sulla formazione che è fondamentale l'aspetto più più pregnante del fatto il punto è come viene recepito Truisi diceva io sono responsabile per ciò che dico ma non per quello che la gente interpreta ecco e il giornalista purtroppo vive questa penalizzazione bisogna tenerlo presente soprattutto però è un problema loro scusami l'interpretazione della notizia il giornalista dà la notizia se questa notizia viene interpretata il giornalista non può esprimersi sull'interpretazione di terzi no non può esprimersi sull'interpretazione ma deve tenere presente la molteplicità ad esempio dei canali di comunicazione che oggi ci sono i canali attraverso i quali la comunicazione passa la notizia passa e anche gli utenti in relazione al canale comunicativo se io uso un linguaggio per Instagram ad esempio che è uno dei canali maggiormente utilizzati giovani per comunicare anche per informarsi non posso usare quello stesso linguaggio per la televisione cosa che faccio io o internet e altro quindi io divento responsabile della scelta giusta del metodo di confezionamento della notizia a seconda del canale che scelgo è un po' complesso e macchinoso come sistema ma nell'atto pratico è questo eppure il linguaggio televisivo forse è il più semplice dei tanti linguaggi mediatici cioè noi possiamo scrivere sul giornale e parlare alla radio però la televisione è più facile perché tu scrivi una notizia ci sono anche le immagini c'è poco da manipolare no? e la devi tenere poco da interpretare però ecco la tv ha dei tempi molto stretti quindi con un servizio di tre minuti magari cerca di riassumere una notizia in tre minuti ma un approfondimento che viene fatto sul cartaceo in un giornale prevede che il lettore sia un pubblico purtroppo di nicchia perché oggi i giovani soprattutto non comprano i giornali leggono notizie sui social o magari spesso il titolo e quindi ecco dove avviene forse una deformazione pochi minuti fa ho realizzato un servizio ed era un servizio di circa due minuti questo era troppo lungo per i nostri standard doveva essere ridotto a 1,25 fare giornalismo televisivo è fare una scelta tante scelte e là come dicevi giustamente tu le immagini ti aiutano quindi certe cose che dovrei dire io da giornalista lascio che siano le immagini a dirlo certe cose che le immagini evidentemente non riescono a comunicare allora devo essere io a sopperire però in tutto questo bisogna trovare un giusto equilibrio e offrire sempre una comunicazione che sia quanto più fedele ai fatti che vengono riportati ovviamente eh sì la comunicazione gli scenari oggi vanno evolvendo soprattutto è anche una professione che cambia col cambiare delle tecnologie ci sono i social ci sono anche le fake news esatto il nostro grande mostro da combattere dite sempre la verità certo ovvio il giornalista deve dire sempre la verità beh il grande scandalo di questa campagna elettorale secondo alcuni nostri illustri colleghi sono stati i giornalisti faziosi quindi il grande scandalo oggi è il giornalista di parte aspetta oggi c'era su facebook un video molto simpatico dove dicevano benvenuti dalla redazione di destra questo è un giornale di destra è stato un lapsus però che la dice lunga della professione e della condizione della situazione del giornalismo e dei colleghi giornalisti oggi non so se siete d'accordo allora è vero che comunque i giornalisti devono seguire forse una linea editoriale rispetto al giornale perché è normale Repubblica non ha gli stessi articoli di Libero o del giornale cioè si capisce che è ancora la linea editoriale diversa se Repubblica è più vicina a sinistra è Libero di destra però in realtà un giornalista con la schiera dritta deve comunque mantenere essere super parte non esprimere mai in giudizio questo nella nostra deontologia nella nostra carta dei diritti e doveri è ben espresso sono delle ma sono tutti così i giornalisti però però devo dire una cosa è vero che comunque ci sono proprio giornalisti che invece amano ci sono insomma vanno spesso in tv insomma amano esprimere la propria opinione oggi li troviamo in politica tanti di loro mi ricordo Paragone quando era direttore oggi conosciamo tutti come senatore credo non sia stato riconfermato ma tantissimi Emilio Carelli che stava direttore di Sky anche lui quindi dal giornalismo alla politica il passo è breve esatto io ho visto tantissimi giornalisti soprattutto nella tornata precedente che si sono candidati c'è una sorta di effetto vampiro in alcuni casi nel senso la politica quando certa politica quando è accorto probabilmente di risorse umane e allora si aggancia a quelli che hanno già una credibilità riconosciuta e comprovata e quindi spesso capita questo passaggio relativamente alle fake news c'è un altro aspetto che vorrei sottolineare pure il lavoro del giornalista non è infallibile è un essere umano come tutti la coscienziosità del giornalista sta nell'accertare i fatti attraverso le sue fonti a volte può capitare che durante questo lavoro di ricerca e di approfondimento qualche cosa si perda perché magari una fonte successivamente si rivela poco attendibile ma questo lo si scopre strada facendo e me quindi bisogna fare attenzione a bollare come fake news degli articoli e dei fatti che vengono riportati sulla base di quelle che sono anche delle polpette avvelenate ogni tanto che ci possa essere una faziosità o comunque una linea precisa da parte dei giornali che c'è assolutamente però non bollerei sempre come fake news cosa che invece accade uno può scrivere un'inesattezza che va condannata per carità ma può capitare e bollarla come fake news perché chissà e allora quello è un atteggiamento altrettanto frettoloso che bisogna guardare con attenzione infatti il primo nemico delle fake news è la fretta e la velocità con cui leggiamo e interpretiamo determinate notizie e poi anche la conferma di alcune nostre ideologie cioè penso che tal dei tali sia stupido se è scritto in una notizia tendo a condividerlo proprio perché va a confermare quello che io penso già ha proprio un termine si chiama dissonanza cognitiva esatto e quindi il primo nemico delle fake news è proprio la velocità dei giorni nostri che ci porta a non leggere a non controllare la fonte non appurare che la fonte sia affidabile insomma tutti i metodi che i lettori che i lettori dei social non adottano e quindi ma noi anche viviamo velocemente viviamo tutto velocemente e poi dimentichiamo tutto in poco sì però abbiamo una formazione tale cioè siamo nati non siamo i nativi digitali di oggi quindi la nostra velocità non è nel guardare un titolo e passare avanti cioè a noi comunque abbiamo una curiosità di fondo e la curiosità ci spinge a vedere e approfondire se è una notizia vera se è falsa cioè se mi raccontano un fatto comunque devo andare su internet a verificare però questa è la tua interpretazione della notizia perché sei una giornalista che conosce l'ambiente però penso che questo sia comune ecco sia comune più per la mia generazione forse non questa nuova cioè nel senso che io vedo i ragazzi di adesso non che siano poco informati non voglio dire questo ma che appunto utilizzando strumenti come Instagram TikTok questi strumenti così loro guardano i video per immagini non interessa tanto su TikTok si fanno i balletti esatto però anche lì ecco un motivo però anche il balletto che la politica è entrata su TikTok il caso di Berlusconi esatto esatto è una comunicazione è un'informazione più a jukebox sì il ragazzo in questo caso visto che si parla di giovani tendono ad andare a cercare quella notizia o quella cosa che più li incuriosisce senza avere una panoramica generale del mondo dell'informazione solo se è virale solo se è un video virale ecco quella cosa che gli interessa va a cercarla è di contro gli algoritmi cuciono l'informazione sulla base di quella che è la ricerca del ragazzo che verrà poi perseguitato no ma seguito targettizzato targettizzato ecco dal social sul quale si muove ma i nativi digitali sono più o meno attenti alle fake news secondo voi secondo me poco attenti non riescono a distinguere non riescono a distinguere la verità delle notizie quindi subiscono le informazioni secondo me sono facilmente influenzabili subiscono la manipolazione la fake news oggi si può dire lezioni finite però non è un mistero il fatto che Salvini abbia comprato con 120 mila euro una campagna da fare su facebook per fare il vinci Salvini vi ricordate? ah sì sì di vincere lui praticamente su facebook adescava nuovi elettori soprattutto giovani per vincere una giornata con lui e questa per fare questa campagna una vera e propria campagna elettorale aveva speso 120 mila euro e aveva individuato il suo target lì c'era proprio uno studio mirato con un algoritmo c'era uno studio di marketing proprio sull'elettore della Lega e quindi di confluire secondo quel target già ben definito tutti i possibili elettori da moltiplicare quindi c'è uno studio vero e proprio sì sì assolutamente sto pensando che la politica strumentalizza i social e gli utenti sui social per raggiungere i propri obiettivi in questo modo quindi allargare l'elettorato quindi non è colpa dei giornalisti sono tanti attori che partecipano a questo processo comunicativo sì e poi attraverso i social è un processo comunicativo che non controlli più quindi il giornalista diventa un individuo che si è riportato la notizia ma l'ultimo un mezzo come diciamo l'anello della catena è un mezzo di comunicazione si diventiamo mezzi noi stessi esatto bisogna infatti cercare per quanto possibile di tenere distinte le varie figure la figura del giornalista la figura del comunicatore di chi mette in rete il prodotto giornalistico che è stato realizzato chi è il destinatario chi è il in questo caso il politico se si parla di politica chi è quindi la fonte della notizia bisogna cercare di mantenere una certa distanza o quantomeno non sovrapporsi ma è molto difficile i giornalisti coscienziosi dovrebbero farlo lo fanno invece quelli faziosi non riescono a mantenere questa distanza ma voi simpatizzate per qualcuno non lo possiamo dire però come facciamo ad essere super fatte è come chiedere a un arbitro di calcio per quale squadra ti fa non si può dire ecco ecco vabbè scusa ma se noi diciamo sempre la verità no diciamo la verità perché in questo caso come figura non puoi perché comunque non puoi esporti non puoi esporti perché comunque influenzi in un certo senso il tuo ma scherzi forse i politici non aspettano te lo dico di sapere che c'è qualche giornalista esposto interessato a dire io sto con io sto per il mio partito noi siamo per il partito della comunicazione essendo professionisti e questa è una cosa che va sempre sotto perché poi il giornalista professionista come nella sua casa deve fare un uso esclusivo della professione il pubblicista per esempio che può fare anche un altro mestiere può insegnare può anzi è nato l'albo dei pubblicisti molti non lo sa come alternativa i vari medici avvocati che erano già scritti in un albo avevano delle pubblicazioni da fare e dovevano essere pagate quindi l'albo dei pubblicisti è nato per questo motivo poi si è fatto un po' un abuso di questo albo diciamo che i giornalisti lo sono diventati un po' tutti sì è vero però noi abbiamo fatto l'esame di stato vero e proprio come si fa per un avvocato professionista quindi siete giornalisti al 100% esatto professionista non so se è un bene o un male non so se è un bene o un male però ci tengo comunque perché è un po' distrattata come professione no? è vero quello che diceva Andrea che negli ultimi anni il giornalista non è ben visto non appunto col fatto che sia fazioso che sia un po' sciacallo no? che penso sempre che quando c'è una tragedia il giornalista è lì a fare lo scoop e non abbia la sensibilità per esempio di non so genitori che hanno preso un figlio però non è colpa del giornalista cioè se il sistema funziona in questo modo che al momento in cui c'è un omicidio o una notizia di corona che era bisogno andare sul posto capire quanto soffrono i parenti vicini sì però non è colpa del giornalista questo sta a noi avere una sensibilità e anche trovare un'empatia un'eleganza anche e anche un'eleganza ma questo penso che valga per tutte le professioni avere anche un certo stile come quando un medico deve comunicare una diagnosi negativa al paziente deve avere anche un certo stile nel dirlo certo stessa cosa noi nella nostra produzione riuscire a capire qual è la giusta prospettiva e la giusta distanza rispetto al fatto che si racconta secondo me è quella la chiave più efficace per poter fare rendere un buon servizio l'eccessiva morbosità l'eccessivo attaccamento al protagonista magari di una tragedia non è non è mai positivo è vero non considero un buon giornalismo l'agguato l'agguato al personaggio di turno che non vuole essere intervistato e che bisogna per forza intervistare o bisogna eppure fanno i numeri i colleghi che si comportano secondo me è un altro tipo di giornalismo è spettacolo esatto tant'è che non voglio fare nomi però comunque ci sono dei programmi dove in realtà quelli non sono giornalisti ma sono attori sono attori e quindi devono devono fare audience e recitare comunque anche se quella persona non vuole essere intervistata il fatto stesso che non dia una risposta è già è già per loro un fatto di riuscita del servizio perché devono fare audience sono delle regole di ingaggio sono delle regole proprio sì che il giornalista deve sempre seguire io devo mettere sul tavolo il fatto che sono un giornalista che stai parlando quindi con un giornalista se sono bravo ti porto a dire quello che mi interessa certo se non sono bravo non ci riesco ma estorcere o provare ad estorcere un'informazione o qualcosa non è non è non è eticamente giusto non è eticamente professionale e quindi diciamo che è una professione schiava dei numeri dell'audience dei risultati e anche un po' del potere ma siete affascinati dal potere entrereste mai in un partito politico o se domani vi chiedessero di trasmettere di diventare conduttori di una trasmissione che funziona in un certo modo dove bisogna andare in certi luoghi sareste disposti a diventare conduttori di questo contenitore me lo direte tra poco sul 264 ci fermiamo qualche minuto grazie